Sulla nostra regione in questo fine settimana è atteso un nuovo cambiamento del tempo. Nella giornata di sabato un fronte freddo proveniente dall'Atlantico interesserà la regione. Pertanto avremo già in mattinata probabilmente dei temporali sparsi sulla zona montana e dal pomeriggio in serata temporali che interesseranno anche la pianura e successivamente la costa. Questi temporali localmente potrebbero essere anche forti, accompagnati da piogge intense. Per quanto riguarda il vento, al mattino un po' di scirocco sulla costa, in seguito entreranno correnti settentrionali, quindi in prevalenza da nord sulla pianura e in serata bora sostenuta sulla costa. Domenica al mattino ancora un po' di piogge residui sulle zone orientali, una tendenza al miglioramento con un cielo poi che sarà in prevalenza poco nuvoloso o localmente variabile nel pomeriggio. È possibile ancora nel corso del pomeriggio qualche locale rovescio ma con bassa probabilità. Temperature in calo con valori nella giornata di domenica decisamente più bassi rispetto a sabato, le massime intorno ai 25-26 gradi e in calo anche le minime. Tempo buono all'inizio della prossima settimana, più secco e decisamente più fresco, condizioni di stabilità quindi per alcuni giorni sulla nostra regione. Buon fine settimana a tutti!